Sindaco, alla fine l'ultimo giorno di scuola è arrivato. Sì, non era un esame, però era un momento importante, un momento che era giusto farlo per i nostri dipendenti, perché hanno fatto un lavoro enorme per l'amministrazione, per tutte quelle persone che hanno collaborato a fianco a noi in questi anni. È stato dieci anni difficili, dieci anni come per molte amministrazioni, ma per me hanno un significato importante, perché comunque finalmente oggi avevamo un obiettivo, delle grandi opere, e oggi vediamo partire tutte le grandi opere, abbiamo superato i vari ostacoli ed è una grande soddisfazione. Sicuramente dopo dieci anni avrà pensato spesso al suo ultimo giorno, al suo ultimo periodo di amministrazione. Lo immaginava così, immaginava qualche opera in più, immaginava qualche opera in meno magari? No, le opere ci ho creduto, anche perché è stato veramente un lavoro importante, e ancora oggi stiamo lavorando su questo e lavoreremo sì all'ultimo giorno. Quello che oggi mi ha fatto piacere è la presenza di tutte le persone che mi avevo invitato, avrei voluto allargare a molte, molte più gente, ma non era possibile, ma soprattutto poi alle istituzioni, di coloro che comunque abbiamo condiviso un percorso e mi ha fatto molto piacere ascoltare le loro parole, la loro riconoscenza nel nostro operato. Questo secondo me era il complimento più bello per tutti, non solo per me, ma per tutta l'amministrazione e i nostri uffici. Molti hanno detto che fare il sindaco è difficilissimo, quasi si dice chi gliel'ha fatto fare, quindi io glielo chiedo, chi gliel'ha fatto fare? Ma ha fatto fare, sicuramente c'è un po' di sfida, d'orgoglio, ma allo stesso tempo volevo provare, secondo me è la nostra città delle potenzialità enormi, io me ne sono d'accordo soprattutto girando per il mondo, per il mio lavoro, e mi faceva piacere provare a lasciare un segno anche qua, cercando di aprire nuovi progetti, una nuova identità. Credo che questo, in questo opusco, si possa trasmettere, si possa capire, e questo è stato il lavoro soprattutto che ci siamo dedicati in questi anni. Sì, 200 milioni di investimenti, ecco, riassumendo molto in breve, quali sono le opere che rappresentano il suo orgoglio da sindaco? Guardi, le opere sono tantissime, le avete oggi sull'opusco, potranno leggere tutte, ricordo il Porto Vecchio, il discorso legato a questo finance project importante, Piazza Eroi che stanno facendo i lavori, il Palazzetto dello Sport, oggi abbiamo tutto il discorso di Porto Sole, che oggi finalmente è arrivata anche la licenza per costruire, dunque nei prossimi settimane vedremo l'abbattimento dell'ecomostro, poi abbiamo non solo grandi cose, ma piccole, il col di rodi, il rifacimento di tutta la zona del col di rodi, ce ne sono tantissime cose, ecco, vuol dire, e soprattutto il grasso del lavoro della messa in sicurezza delle scuole, qua parliamo di 26 milioni di euro messi nella scuola, tutti i fondi del PNRR, il Pinqua, Villa Anga, tantissime, la nuova sede della Polizia Municipale, queste sono soprattutto le risorse più importanti. Il momento più alto e il momento più difficile dei suoi dieci anni di amministrazione? Più alto non saprei, più difficile sicuramente sono stati diversi momenti difficili, ovviamente quello del Covid, ma ce ne sono stati molti altri, molti altri che adesso, ma ci sono stati, difficoltà, anche un po' a volte dici non riesco a arrivare a fine mandato, cioè non ce la faccio più, ma devo dire che ho avuto una squadra, ho avuto una squadra eccezionale che mi è sempre stata vicina, guardo a pensare anche tutti i consigli comunali che sono stati fatti questi dieci anni, non è mai mancato il numero legale, non c'è sempre stato, secondo me è un qualche cosa di straordinario, perciò devo dire che i momenti difficili sono superati, soprattutto grazie a questa bellissima squadra che ho avuto sempre a mio fianco. Ricordato la presenza dei candidati sindaci oggi qua, saremo quale tra questi potrebbe rappresentare la continuità con la sua amministrazione? Io dalle parole che sento mi sembra che sono tutti a favore delle opere che mi ha messo in campo, non ho notato delle grosse differenze, io credo che questo sarà la città a deciderlo e sarebbe anche fuori luogo a parlarne oggi in questa giornata. Quello che voglio ribadire è che a me ha fatto molto piacere ascoltare le dichiarazioni in questi mesi dei candidati sindaci e devo dire che tutti hanno riconosciuto il lavoro che è stato fatto da parte nostra, questo secondo me è il dato più importante che è che mi fa piacere. Poi ognuno avrà le proprie sensibilità, le proprie cose, ma io credo che queste opere che abbiamo messo in campo tutti le porteranno avanti, non ci sono, devo dire, ormai sono talmente avanti che sarebbe una pazzia fermarlo. Il suo video si conclude con una scritta Buon Viaggio Sanremo, dove va Sanremo? Sanremo va sicuramente in un'ottica di uno sviluppo turistico, un'ottica sempre più importante, va soprattutto in una direzione, quello che ricordava oggi il mio caro Presidente Totti, quando parlava di imprenditori monegaschi che hanno grossi interessi a venire qua. Dunque Sanremo diventa sempre più internazionale, ancora più appetibile, dunque va nella direzione giusta, lo vedono anche solo, si vede anche delle strutture recettive che stanno nascendo, le nuove, quelle che stanno nelle strutture di orazione. Cioè c'è un cambiamento nella nostra città, secondo me dobbiamo andare verso questa visione. Siamo partiti con la volontà di fare dei passaggi che sembravano quasi, lo ricordava qualcuno, il rifacimento del San Romolo e del San Francesco, ma questi hanno fatto sì che hanno portato poi a ulteriori aperture, a ulteriori cose. Abbiamo visto il discorso legato ai piazzeroi, lo spostamento dei chioschi, e quello è successo dall'oggi al domani, che poi al Piazza Eroi ha anche la piazza nuova col parcheggio sotterraneo, che sicuramente crea dei disagi, che poi forse fa perdere anche consensi, ma quello che si otterrà poi fra due anni sarà incestionale per la città, un po' come abbiamo vissuto per via Matteotti, quando è diventata pedonale. Grazie per la visione!